Domenica 10 dicembre, domenica che chiude questo lungo ponte delle festività, le prime festività del periodo di Natale, ben trovati con Infostudio. Anche sotto Natale si parla naturalmente, in qualsiasi periodo dell'anno buono, ma poi questo in particolare perché si fanno un po' i conti rispetto a quello che è avvenuto nel corso del periodo precedente, dicevo si parla di economia e la situazione della nostra regione, se ne è discusso presso l'Università Magna Grecia, su impulso dell'Ateneo Catanzarese ad un dibattito al cui ha partecipato anche lo Svimez, c'era il Presidente dell'Istituto per lo Sviluppo del Mezzogiorno, Adriano Giannola. La ripresa della nostra regione, stavo dicendo, c'è, è lenta, dà segnali che sono sempre molto difficili da interpretare, ma c'è. Anche se per parlare, proprio Giannola lo dice molto prudentemente, se per parlare, prima di parlare, di ripresa vera e propria bisogna attendere, bisogna attendere conferme, bisogna attendere che questi numeri si manifestino nel tempo e che alcune forme, diciamo così, di ripresa, appunto, diventino strutturali. Coi suoi tempi e quindi molto a fatica, la Calabria sta provando a riprendersi, anche se poi il suo principale problema non è solo quello di spendere tutte le risorse a disposizione, ma di utilizzarle bene. E' questo quello che è emerso dalla giornata di studio organizzata presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro e nella quale mondo accademico e studenti si sono confrontati con Regione Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo Industriale nelle Regioni del Sud. Oltre 300 gli studenti presenti nell'Aula Giovanni Paolo II e dai quali si prova a spiegare il senso di questo sforzo di reazione ad un destino troppo spesso apparso segnato ed ineluttabile. I segnali di ripresa ci sono, seppure ancora troppo deboli per pensare ad una vera e propria inversione di tendenza rispetto al passato. Ma la fase è reattiva e denota una vitalità che curiosamente è proprio l'industria a mostrare, anche grazie ad alcune opportunità, come la clausola del 34% degli investimenti pubblici nel mezzogiorno o la zona economica speciale per Gioia Tauro. Poi ci sono le dolenti note, troppe a partire dal tasso di disoccupazione record, che fanno della Calabria il territorio più critico del Paese. Ma dopo le misure difensive degli scorsi anni, dice il presidente dello Svimez, Adriano Giannola, finalmente ci sono segnali di visione strutturale e di razionalizzazione. E pur restando la regione più fragile, la Calabria, sottolinea Giannola, ha forse fatto segnare la più notevole accelerazione fra le regioni del mezzogiorno, anche se prima di parlare di svolta bisognerà attendere tempo e soprattutto avere conferme. È una regione che da due anni è tornata in positivo, ma con un'accelerazione nell'ultimo anno che è promettente. Ovviamente non si può scommettere sul futuro sulla base di un dato di un anno, però sicuramente, cosa interessante, è l'industria quella che sta trainando, gli investimenti privati quelli che stanno trainando e quindi è molto importante a questo punto che gli operatori pubblici siano a supporto di questa ripresa che in qualche misura si sta manifestando. In Calabria in particolare, perché la Calabria è per tradizione una regione fragile dal punto di vista delle performance e così via. La Calabria che ha, tra l'altro, una grande opportunità che dovrebbe utilizzare il più presto possibile, che è lo strumento della zona economica speciale che dovrebbe rimettere nel circuito, con il rango che compete a questo porto, il porto di Gioia Tauro, e il retroporto come un'area di attrazione, di investimenti e quindi di grandi attività. Quindi è una Calabria che si trova di fronte a una scommessa da vincere. Ci sono tutte le premesse per cui questa scommessa possa essere conclusa favorevolmente e quindi è un momento, come dire, fluido. Fluido ma con potenzialità che fanno guardare indietro agli anni passati di grandi difficoltà, soprattutto del mezzogiorno e in particolare della Calabria. e quindi a questo momento è il momento di guardare avanti e di rialzare la testa, però di essere consapevoli che non è né un compito facile, ma che non ci sono grandi alternative. E quindi su questo poi l'interlocuzione col governo, con l'Europa, deve essere molto chiara e precisa perché è un'esigenza importante anche per il Paese, soprattutto per il Paese. Sarà visitabile fino a febbraio ed è stata allestita presso il complesso monumentale della Basilica di San Giovanni nel cuore di Catanzaro. La mostra Imperatores è un vero e proprio tuffo nell'antica Roma grazie alle armature, alcune delle quali originali di film importantissimi come Ben Hur ed Il Gladiatore utilizzate dal mondo del cinema. Da ieri e fino al 28 febbraio prossimo al complesso monumentale del San Giovanni di Catanzaro è visitabile la mostra dal titolo Imperatores. Si tratta dell'anteprima mondiale di un'esposizione organizzata dall'Associazione Quattro Culture col sostegno di Regione Calabria e Comune di Catanzaro che ha un alto valore didattico e che approderà anche a New York. La mostra racconta il lungo processo evolutivo del potere a Roma tra il VI secolo a.C. ed il III secolo d.C. attraverso la ricostruzione delle armature e dei simboli su di esse raffigurate ed è frutto di uno studio approfondito condotto dall'architetto Silvano Mattesini che è tra i più importanti conoscitori delle armature romane sui reperti presenti nei maggiori musei di storia ed archeologia europei e statunitensi. Fra i pezzi esposti alcuni oggetti simbolo del mondo del cinema come le corazze anatomiche e gli elmi originali dei film Quo Vadis, Il Gladiatore e Ben Hur. È una presentazione in anteprima assoluta di questa mostra dedicata all'impero romano ma raccontata attraverso degli elementi molto particolari ovvero delle armature corazze e elmi si tratta di ricostruzioni e di pezzi autentici del mondo del cinema realizzate dall'architetto Silvano Mattesini che è uno dei maggiori conoscitori uno dei maggiori esperti in questo settore la mostra è calibrata proprio per un pubblico molto vasto e eterogeneo in modo da poter accompagnare i visitatori in base anche alle loro conoscenze di base e questo rappresenta un po' il nostro approccio perché chi ha visto la mostra dello scorso anno sa appunto che diciamo ci sono diversi livelli di fruizione quest'anno abbiamo implementato ancora di più la parte multimediale e quindi oltre alle audioguide saranno anche disponibili proprio dai tablet che accompagneranno i fruitori attraverso contenuti inediti contenuti diciamo aggiuntivi rispetto a quelli di base esposti nel percorso di visita imperatore sconduce gli spettatori in un entusiasmante viaggio nella storia un'immersione nei profondi cambiamenti della società e della cultura occidentali fatta grazie alle tecnologie più innovative dagli ologrammi degli imperatori ai tablet dai monitor touchscreen ai beacons che consentono di migliorare la conoscenza di luoghi tecniche di guerra simboli e storia dell'impero romano alla mostra si affiancheranno anche eventi di approfondimento dedicati al diritto romano e dal rapporto tra impero e chiesa e sono previsti spazi ludici e visite guidate per le scuole insomma una mostra fra storia divulgazione ed innovazione siamo passati a un tema più complesso che è quello della rappresentazione dei loricati principi, imperatori, consoli quindi personaggi importanti della storia di Roma per cercare di capire sia da una parte qual era il messaggio che queste attraverso le corazze veniva lanciato e poi per comprendere anche come queste corazze effettivamente erano costruite e abbiamo avuto tante sorprese perché noi immaginiamo sempre le corazze romane in metallo con questi sbalzi eccetera in realtà dal secondo secolo avanti Cristo al secondo dopo Cristo dobbiamo dire che la stragrande maggioranza delle corazze era in lino a strati sovrapposti o in pelle a strati sovrapposti questo si evince dallo studio delle statue io credo che comunque tra la storia delle corazze e il cinema che si è inserito in questo contesto uscirà una bella mostra che non so se completerà il percorso però sicuramente creerà un nuovo modo di concepire le corazze romane e la voglia di continuare a capire qualche cosa di più Bene, per questa edizione domenicale è tutto noi ci fermiamo qui adesso vi lasciamo con il meteo e vi ricordo che Info Studio torna domani alle 13.50 Buona domenica Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti